La vicenda, rispettarsi alla vicenda e di portare rispetto anche ai membri delle altre squadre Vincono il premio con Belius E ora questo lo dobbiamo dire insieme Ok, va bene? Vale la pena, giusto? Ma si, facciamo un po' di... Facciamolo veloce, così almeno... Facciamo uno stacco al numero FLL e poi con i palmi Pronti? Vai! Pronti! FLL? 5.0!